Per venire il Presidente Monti, prego. Grazie, grazie Presidente. Giusto per integrare quanto ben descritto dalla consigliera Tironi, Vicepresidente della Commissione Sanità, commissione nella quale è partito un lavoro davvero molto importante sulla tematica dell'autismo. Un lavoro importante perché innanzitutto ha esercitato il ruolo del Consiglio regionale in quanto vero Parlamento dei Lombardi, portando all'attenzione della Regione Lombardia il tema dell'autismo, facendo dell'ascolto con molte audizioni e un ascolto che è andato a 360 gradi su questo tema, interessando le famiglie, interessando le associazioni, le fondazioni che operano in questo settore da anni, la clinica, i medici, la scienza, per portare all'attenzione della Commissione da tutti i punti di vista uno dei temi più emergenti delle disabilità gravi e gravissime che abbiamo nel nostro Paese, ma voglio dire in tutto il mondo. Un tema grande, un tema che partendo dai numeri evidenzia una crescita e una moltiplicazione dei casi così numerosa che non può assolutamente tenerci silenti davanti a questa situazione. Quindi innanzitutto un metodo del quale, come Presidente della Commissione Sanità, non posso che essere davvero contento, in cui non c'è stato colore politico, non c'è stata maggioranza opposizione, c'è stata una vera serietà di intenti e che ha portato dopo, io direi, diversi mesi di lavoro, quasi un anno, potremmo dire, da quando abbiamo iniziato a affrontare il tema, a questa risoluzione. Questa risoluzione che vuole essere un testo guida che pone due elementi oggi fondamentali per il Consiglio regionale. Da un lato, quello del pieno possesso in questa legislatura da parte del Consiglio regionale del tema dell'autismo. Perché il tema dell'autismo è stato affrontato anche prima di questa legislatura al Consiglio regionale, è stato affrontato seriamente nella legge 23 del 2015, ha avuto delle determinazioni chiare e il voto di oggi a questa risoluzione va a far appropriare a questa legislatura il tema dell'autismo e va a ribadire in modo serio e determinato che questa è una legislatura che prende in carico il tema dell'autismo e lo porta avanti. E credo che già questo tema, a livello politico, è qualcosa di importante. Secondo ragionamento che emerge dalla discussione di oggi è quello che viene scritto in questa risoluzione. È quello che viene scritto in questa risoluzione perché impegna la Giunta ad azioni concrete sull'autismo che devono essere fatte. Poi è chiaro che non chiediamo all'assessore e al Presidente Fontana domani mattina di avere in tutte le SST lombarde una sorta di PDTA sull'autismo, ben definito e chiaro. Non è che chiediamo domani mattina all'assessore, anzi agli assessori competenti, di stanziare le risorse e devo dire numerose risorse che necessiterebbero assolutamente i pazienti che soffrono di disturbo allo spettro autistico in Lombardia. È chiaro che non chiediamo al Presidente Fontana domani mattina con la bacchetta magica di prendersi in carico delle migliaia di disabili gravi gravissimi che non sono più minorenne, hanno superato i 18 anni e magicamente sembrano non essere più considerati come autistici. È chiaro che non chiediamo questo con questa risoluzione, o meglio, non ci immaginiamo che domani mattina in modo magico tutto questo avvenga. E nemmeno vi devo dire questo deve essere l'ennesimo testo che pone l'autismo al centro di un'assemblea parlamentare. Ce ne sono stati forse anche troppi di interventi parlamentari. In questa risoluzione l'abbiamo voluto anche ricordare partendo dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2006 in cui si parlava già di temi che sono assolutamente oggi di una estrema modernità e di un'estrema coerenza con quello che abbiamo fatto. Perché quando parliamo di libertà e indipendenza nell'autodeterminarsi, della piena effettiva partecipazione nell'inclusione della società, sono temi di assoluta condivisione. Sono temi di assoluta condivisione. E qui abbiamo voluto citare in questa risoluzione, e ringrazio anche io gli uffici, la dottoressa Rencricca, voglio dire poi tutti gli uffici anche delle DG che hanno dato il loro contributo per quanto posto in questa risoluzione. perché vanno a riepilogare i numerosi interventi sia a livello internazionale sia a livello nazionale sia a livello regionale che noi abbiamo posto in essere. Io ne voglio ricordare uno tra tutti che è anche un nome, la consigliera Saita che aveva davvero portato all'attenzione in quella legislatura nella creazione della legge 23 nel 2015 e della modifica della legge 33 del 2009 l'articolo 54 che prima di tante regioni d'Italia ha posto il tema dell'autismo parlando di prevenzione, cura, riabilitazione delle persone con disturbi allo spettro autistico, di costituire una rete integrata di servizi, di porre il tema sociosanitario al centro e le famiglie, i caregiver, l'attenzione che queste famiglie devono avere e l'aiuto che queste famiglie devono avere perché dietro al paziente c'è una famiglia, c'è una serie di soggetti che devono assolutamente essere presi in carico dal sistema regionale. Fare anche quello che il Fondo Nazionale non riesce a fare perché noi sui 6.800 persone prese in carico nel 2018 nel Fondo Nazionale delle non autosufficienze sono 1.000, 1.100 che soffrono i disturbi allo spettro autistico, il 93% minori è un dato che continua a crescere anno dopo anno. Certo da un lato c'è un'evidenza che viene anche dalle diagnosi perché l'autismo viene diagnosticato sempre di più e abbiamo anche strumenti per diagnosticare l'autismo in modo differente rispetto al passato ma è anche vero che c'è un'evoluzione e qui quando abbiamo audito chi nel mondo della scienza, della ricerca, dei nostri IRCS sta lavorando seriamente sul tema dell'autismo ci ha portato delle evidenze molto interessanti anche su questo. Io credo che negli impegni alla giunta che questa risoluzione va a porre non c'è niente di nuovo. Cioè qua dentro non ci sono delle cose per cui dire in questi sette punti stiamo raccontando una nuova storia sull'autismo. Il grande lavoro che è stato fatto e ribadisco maggioranza opposizione giunta e consiglio perché il lavoro che è stato fatto dagli assessori è stato importante sono venuti entrambi in assemblea in commissione terza a discutere e ad affrontare il tema con l'associazione dei pazienti e con tutti gli stakeholder che abbiamo invitato e il contributo che hanno portato con le loro DG è stato onestamente rilevante. Qua dentro non c'è niente di nuovo. Ci sono sette punti che io direi vanno seguiti. Io l'unica cosa andando a concludere il mio intervento che voglio lasciare all'interno di questa seduta del Consiglio regionale non facciamo che questo sia l'ennesimo atto dell'ennesimo Parlamento che discute sull'autismo e poi non riesce a dare seguito a degli impegni chiari e concreti che prendiamo. La Giunta regionale e qua io ringrazio veramente il Presidente Fontana a nome di tutta la Giunta ha preso questo impegno e lo stanziamento ad aprile di un milione e mezzo di euro su fondi incrementali sull'autismo è un atto concreto non sono parole non sono chiacchiere non è e io capisco che poi le associazioni dicono beh ma noi ne servirebbero dieci milioni di euro e siamo d'accordo però intanto un milione e mezzo di euro incrementali è stato stanziato. Allora questa deve essere la roadmap questo deve essere il percorso lo abbiamo fatto insieme consiglio e giunta lo abbiamo fatto insieme tecnici e politica lo abbiamo fatto insieme politica e associazioni benissimo questi sette punti vanno seguiti devono essere un mantra noi saremo qui davvero come custodi della democrazia a controllare che queste cose avvengano già nella delibera delle regole che verrà presentata l'assessore Gallera io mi aspetto che questi punti una parte di questi venga integrato e noi saremo qua a monitorare e valutare la cosa e devo dire che la politica si è chiamata anche ad avere un accountability come dicono gli americani avere una responsabilità e la responsabilità ce la prendiamo qua allora io mi sento votando questa risoluzione responsabile di questi sette punti responsabile davanti alle famiglie responsabile davanti a chi oggi ha bisogno di una mano da parte dello Stato che in questo caso si chiama Regione Lombardia e portare avanti questi sette punti vuol dire metterci la faccia su un tema importante quanto l'autismo in cui tutti noi crediamo e allora votare questa risoluzione non è l'ennesimo documento da approvare non è l'ennesima volta che si dice siamo vicini alle tante famiglie che hanno un figlio che ha gli è stato diagnosticato il disturbo allo spettro autistico e da poco da tanto da molti anni è un paziente autistico non parliamo solo di minori ma parliamo anche di adulti in questa risoluzione anche per questo allora io prendo la responsabilità con me il gruppo della Lega la maggioranza la minoranza perché l'abbiamo scritta insieme e dopo dobbiamo portare avanti le cose passare dalle parole ai fatti come abbiamo dimostrato nella prima anno di questa legislatura ponendo sull'autismo delle risposte chiare e certe un percorso grande su un tema grandissimo su un tema in esplosione al quale noi non possiamo assolutamente abdicare grazie presidente grazie al presidente Monti ha chiesto di intervenire il consigliere Girelli